Il Consiglio Comunale dei Giovani torna ad essere oggetto di discussione in aula. Durante l'ultima seduta della Question Time ad alzare la mano in merito è stato il consigliere del PD, Angelo Pizzutelli, che si è rivolto all'assessore alle politiche giovanili Cinzia Fabrizi per avere risposte sull'indizione delle elezioni del Consiglio dei Giovani e lo stanziamento in bilancio di risorse da destinarvi. Ma la risposta dell'assessora non piace ai giovani democratici di Frosinone che hanno tonato. Non ci fermeremo. Ce la stiamo mettendo tutta, ha rassicurato la Fabrizi. L'amministrazione ha risposto al bando il 31 gennaio e adesso aspettiamo per vedere quanti soldi arriveranno. Parole non gradite ai giovani democratici che così commentano. L'assessora alle politiche giovanili ha liquidato il consigliere interrogante e le relativi questioni in un minuto scarso senza rispondere a nessuna delle domande. Pare a questo punto evidente che l'amministrazione guidata dal sindaco Ottaviani mal sopporti le iniziative tese ad arricchire la gestione degli interessi collettivi. Il Consiglio dei Giovani è il frutto di un lavoro portato avanti dal 2015 anche grazie alla disponibilità dei consiglieri di minoranza e maggioranza e dalla condivisione di questa nostra proposta con Daniele Riggi e dei Giovani Socialisti. Arrivati a questo punto non ci fermeremo per cui sostenete e firmate tutti la nostra raccolta firme. Il link è consultabile sulla pagina Facebook dei Giovani Democratici di Frosinone. Servirà tutta la condivisione possibile per abbattere questi atteggiamenti mortificanti di ogni sforzo positivo.